Siete pronti per un'altra sfida? Io a questo punto non riaggiorno la ruota così magari mi fa uscire cose nuove, davvero nuove? Vediamo! E invece no, usare solo stregoni. Allora riaggiorniamo la ruota! Cioè il sito. Vai! Non le solite cose. E invece guarda, sono sempre le solite cose. Pazzesco eh! Anche questa l'ho già fatta. Oh, è dura eh, è dura. Rompi tutto, dai, l'ho già fatto. Utilizza solo oggetti dei DLC e di eventuali altre sfide. Ok. 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 Capito? Capito. Vieni! Non aprirò mai la griglia ai personaggi. Dai, io la cambierei. Cioè... Proviamo... Proviamo a usarne altre. Oh, questa è bella. Ogni 5 secondi alterna il personaggio tra giocatore 1 e giocatore 2. Questa è tosta, è da tenersi sempre a mente. È molto tosta. Vediamo qual è la prossima sfida, perché sennò mi sa che mi tengo quella della griglia. Dai, basta dell'arco. Mi è già fatta. Ok, dai. Utilizza solo personaggi personalizzati. Modificabile. Modificabile con altre sfide. Utilizza solo cose del DLC. E... Ogni 5 secondi devo cambiare. Dai, ce la riusciamo a fare 3 stelle. Riusciamo a fare 3 stelle, eh? Dai. Dai, voglio fare 3 stelle. Voglio fare 3 stelle. Ti prego, sii buono. Dai, ho già fatto queste cose. La corsa 8-1. 5-2, eh? Ho qualcosa di diverso. 5-2. Eh, qua, qua si sta tornando a casa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh no. Oh no. Allora, soltanto personaggi personalizzati. Allora, chi abbiamo? Guardate, Castino. Ta-ta-ta-ra. Ah, giusto. Ta-ta-ta-ta-ra. E dove è l'altro? Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra. Ah no, giusto, era. Ta-ra. Ta-ta-ta. Questo. E questo è. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ra. Perché ho sbagliato tutto? Picconcina. Edward, ovviamente si usa Edward. Poi faremo diventare l'altro... e lo faremo diventare Radagastino. Subito. Ok. E dobbiamo usare soltanto oggetti del DLC. Quindi. Arco. E a lui... E gli diamo la katana. Ok. E devo già cambiare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno... Sarà tutto così. Due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ando quattro qua. Ok. Devo andare di qua. Quattro, cinque. Uno, due. Devo anche cambiare velocissimo. Quattro, cinque. Devo già cambiare personaggio. Uno, due, tre, quattro, cinque. E non posso usare... Tre... Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oddio, ogni cinque secondi è davvero snervante. Eh, però per la modalità storia devo usare per forza questo. Ah, devo cambiare personaggio. Uno, quattro, cinque. Vai! Cambio... Cosa? Uno. No, ho sbagliato. Eh, vabbè. Altro giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vai! Oggetto. Veloce, 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 veloce. 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 Ok. Cambio personaggio. Due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Eh, devo curare qua, scusate. Me lo contate come buono. Ok, usiamo il jolly già sprecato perché ho picchiato anche con... Uno, tre, quattro, cinque. Uno, eh, due, tre, quattro, cinque. Oddio mio, quanto è staravate! Quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non posso scavare con nessuno di questi. Tre, tre, quattro, cinque. Come faccio? È tostissima questa cosa. È tostissima. Due, tre, quattro, cinque. Uno, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cioè... Oddio mio... Ah, non conta, infatti. Dai, qua mi cambia personaggio. Ok. Quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due. Eh, vai, sono morto. Ok. Tre, quattro, cinque. Uno. Quattro, cinque. Uno. No! Cinque. Eh, niente. Ho... Ho bruciato il bonus. Mi dispiace. Niente oggetti DLC. Niente oggetti DLC. È già bruciata la stella. L'ho colpito un attimo. E qua c'è il video. Ovviamente non conta. Non posso cambiare. Caspita. Niente stella del DLC. Tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Andiamo. Vabbè, ho cambiato anche prima. Due. Uff. Che faticato però, eh. Che faticato. Ciao. Ok. Qua devo scavare. Ok, cambia. Tre, quattro, cinque. Ok. Prendi. Tre, quattro, cinque. E non so più come si fa. Dai, cambia. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora. Veloce. La palla. Qua ci sarà una palla. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tre, quattro, cinque. Vai, cambia. Veloce. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno. Due. Uff. Che fatica. Lo so che non dirò altro in sto video, ma è davvero la sfida che è faticosa. Dai, dai che manca soltanto. Cinque. Uno. Un coniglio. Tre, quattro, cinque. Uff. Quattro. Devo colpire di a sopra, vero? Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre. No, lui lo lasciamo così. Quattro. Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Comunque mi lascio il coso di DLC. E uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. C'è il video. È veloce, veloce. Ok. Due, tre, quattro. Tro cinque. Uno, due. Tre, quattro, cinque. Devo andare a cambiarmi la gola. Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. No, devo scambiare il messaggio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre. Dove scappi? Ora. Veloce, 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 veloce. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cavolo, non ce l'ha fatta. Due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, vi raccolo. Due, tre, quattro, cinque. Eh no, non posso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. e non ce la farò mai 4,5 forse montando normale 4,5 1,2,3 4,5 1,2,3 4,5 1 1,2 1,2 1,2 3,4 5 1,2,3 forse se non rimonto con lui forse si può continuare grande 5,1,2 3,4 5, io non capisco perché eduardo scappi sempre 3,4,5 ok vai 2,3,4 5 1,2 qua me lo contate buono ok cambierò personaggio appena rientro in gioco e sbagliamo e qual è questo? ok oh che faticaccia non posso immaginare quanto odio per questo video uff o mi odio anch'io 3 questa era una sfida tosta eh però sto mantenendo i personaggi personalizzati ah cambia no cosa ho più l'ha fatto 4,5 cambia 2,ok 3 ce l'ho fatta 4,5 ve lo contate come buonissimo questo non ne frega niente 4,5 2,3,4,5 vai 2,3,4,5 1 no perchè non l'ha cambiato 1 2 3 4 5 cambia e non mi cambia subito se sei attaccato lì 4,5 1 e devo per forza fare così 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 9 3 non ce la farò mai 3 4 5 1 2 3 4 5 ce l'ho fatta almeno ok dai veloce ok uff sto staccando la cola ce l'abbiamo fatta 5 ce l'abbiamo fatta 2 stelle peccato per la roba degli odori oggetti però era impossibile era impossibile che gli oggetti questo video però voglio guardare però come ricompensa cosa vuol dire spide gandalf si arriva da dolgudur ma l'ultima fortuna è abbandonata no gandalf non è un potere dark potere dorme in lì comunque questa scena nel film è bellissima perché fai vedere quanto radagast sia tosto in realtà faccia bellissima ok basta 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 che questa è la soundtrack copyright e sarebbe bello farlo e invece signori sono soddisfatto sono soddisfatto avete visto cosa ho fatto avete visto cosa ho fatto eh mi merito tutto mi merito tutto la prossima sfida deve essere facile è venuto un mal di testo signori alla prossima sfida questa era tosta questa era tosta alla prossima ciao